Approvato il bilancio 2020 di Romagnacue con un utile netto di 7 milioni e 41 mila euro. Il valore di produzione dello scorso anno è stato di 57 milioni e quasi 159 mila euro. Per quanto riguarda la distribuzione degli utili, si è arrivati a 5 milioni e 815 mila euro, con un valore di ogni azione di 8 euro. Come già deciso lo scorso anno, proseguirà anche per il 2020 una distribuzione straordinaria dei dividendi, anche dalla riserva per aiutare i comuni soci che costituiscono Romagnacue a seguito delle difficoltà dovute alla pandemia. In pratica, ogni azione distribuita ai soci avrà un valore maggiore che raggiungerà i 13 euro. Dal punto di vista idrico, nel corso del 2020, la società ha fornito oltre 107 milioni di metri cubi di acqua, con un calo di circa 4 milioni rispetto all'anno precedente. La differenza non dipende però da particolari problematiche dal punto di vista idrico, ma è motivabile in buona parte dalle conseguenze del Covid che, avendo spostato molti davanti l'apertura della stagione turistica, con un calo complessivo di presenze estive in Romagna, ha inciso anche sulle forniture, soprattutto in quel periodo. La diga di Ridracoli, infatti, era già quasi piena a gennaio 2020, con 32 milioni e mezzo di metri cubi, e l'invaso ha traccimato il 7 marzo. La quota si è mantenuta attorno a quella di sfioro in aprile e in parte anche a maggio. Con l'arrivo dell'estate si è poi registrata una decrescita lineare del livello, che ad ottobre ha toccato i 12 milioni di metri cubi, poi risaliti con le precipitazioni invernali. Per quanto riguarda gli investimenti, proseguono i progetti di Romagna Acqua e con alcuni rallentamenti dovuti alla pandemia. Sul territorio Ravennate, ad aprile 2021, sono stati avviati i lavori per il raddoppio della condotta russi derivazione di Cotignola, un investimento da quasi 9 milioni e mezzo che consentirà di incrementare la portata erogabili dell'impianto della Standiana e di aumentare la sicurezza di approvvigionamenti dell'entroterra lughese e feintino. Alla Venna sono partiti a novembre i lavori per la realizzazione del secondo tratto del canale Carrarino a collegamento alla canale Tanic, quasi 3 milioni e mezzo di investimenti per aumentare l'affidabilità di approvvigionamento del potabilizzatore Bassette. Infine, un importante intervento strategico, la condotta Standiana-Forlimpopoli-Casone-Torre-Pedrera, ha visto in novembre l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Infine, nel 2020, è entrato in funzione il nuovo impianto fotovoltaico vicino al potabilizzatore Standiana, ideato principalmente per l'autoconsumo. La messa a regime dell'impianto arriverà nel 2021. Un milione di euro investiti per migliorare la sostenibilità dell'intera società che punterà a ridurre gli acquisti di energia. Oltre a quello della Standiana, verranno realizzati altri due impianti, a Forlimpopoli e a Bellaria, per una produzione annua a regime di quasi 2 GWh.